Uno dei modi migliori per riaccendere questo entusiasmo è l'esempio. E l'idea è esattamente questa, cioè quella di invitare Fabio Zaffagnini, che ha fatto un'impresa. Che cosa fai quando non sei in grado di fare qualche cosa? Cominci a chiedere aiuto agli amici. Il primo è Lele, che è il guru delle batterie. Augusta, guru voce. Stefano, guru chitarra. E Benny è guru sax e direttore d'orchestra. Per riuscire a fare qualche cosa che sia musica, ogni gruppo deve andare in una stanza diversa. E poi dopo ci ritroviamo tutti insieme per suonare e cantare insieme una canzone, che è Should I Stay or Should I Go? Should I Stay or Should I Go Now? Ok, perciò, proviamo. E' una città e riportare insieme per la sua canzone. E' una città e riportare insieme. Surросpone tutti gli amici. E' una città e riportare insieme. I'll give it to the end of time So you gotta let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, I will be troubled If I stay or will be troubled So you gotta let me know Should I stay or should I go?